Una giustizia giusta per il nostro Paese, coraggio è la parola d'ordine, il coraggio di avviare una volta per tutte le riforme al sistema giustizia. Questo è il tema del convegno organizzato da Forza Italia, tenutosi nel pomeriggio di ieri presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria. A fare gli onori di casa il deputato Francesco Cagnizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, il quale ha introdotto e coordinato gli interventi di Saveria Cusumano, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati Reggio Calabria, del presidente dell'Ordine degli Avvocati Rosario Infantino, prima di entrare nel clou del tema, vale a dire separazione delle carriere, abuso di ufficio e di intercettazioni. Stop dunque gli scoop giornalistici e maggiore attenzione nei confronti della riservatezza dell'indagato. Bisogna essere rigidi e incidere in modo risolutivo e deciso, senza affidarci a rattoppi di legge o normette, ha dichiarato il capogruppo della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, Tommaso Calderone. Lampante l'ottimismo trapelato dalle dichiarazioni del vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, Pietro Pittalis. Siamo già a buon punto. Forza Italia è determinata a portare avanti questa battaglia. Lo faremo con estremo coraggio e con tanta tantissima determinazione. A concludere, il viceministro alla Giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto. Il principio decisivo sarà motore di questa riforma e sarà il principio di presunzione di non colpevolezza. In questo Paese non si può essere colpevoli se non con una sentenza definitiva. Battiamoci dunque per la separazione delle carriere. Battiamoci affinché venga tutelata la riservatezza e la dignità degli indagati. Battiamoci, ha poi concluso il viceministro, per processi più snelli e più veloci. Battiamoci così per una giustizia più giusta. Forza Italia credo che sia la forza politica che più di altre forze, non solo in Parlamento, ma oramai da molti anni anche sui territori, si batte per una giustizia giusta, per una necessaria riforma della giustizia. E lo fa in sede parlamentare con esperti, con decetati e senatori di grande qualità, soprattutto di grande competenza. E allora l'iniziativa di oggi ha un senso, quello di raccontare anche all'esterno di Montecitorio, di Palazzo Madama, quello che Forza Italia tende e tende a fare verso una riforma di una giustizia. Noi come governo della nazione, che è un governo di larga maggioranza, un governo stabile, un governo che si pone come un governo credibile, perché è stato eletto dopo tanti anni dai cittadini, non può evidentemente fare con i governi che si sono succeduti. Anche quelli del centrodestra, perché la riforma della giustizia è basilare, lo abbiamo raccontato in campagna elettorale, lo abbiamo narrato durante i comizi che abbiamo fatto durante la campagna elettorale, oggi lo dobbiamo attuare con delle azioni concrete e Forza Italia è impegnata seriamente a far sì che questo avvenga, anche a volte andando in contrapposizione, perché no, con dibattiti costruttivi, con quelli che sono gli alleati, che credono anche a una riforma della giustizia necessaria per il Paese. Dicevo, questi incontri per esternare, manifestare all'esterno e raccontare agli elettori, agli imprenditori, agli associazioni di categoria cosa sta facendo Forza Italia, che io ritengo essere la forza politica che più tiene a questa riforma della giustizia e che però noi non possiamo assolutamente deludere colori quali, che sono tanti, hanno votato il centro-destra e Forza Italia in modo particolare, anche perché abbiamo assunto l'impegno di dare ad ogni singolo italiano una giustizia giusta. Gli italiani si devono sentire garantiti, si devono sentire in uno stato di diritto, si devono sentire sereni nell'agire, nelle professioni, nel fare attività nell'azienda, soprattutto anche al sud. Tante volte questo non è accaduto per una mala giustizia. Allora chi è legislatore ha il dovere e il compito evidentemente di dare questo tipo di risposte concrete. Ecco perché abbiamo voluto immaginare un momento così di dibattito, di laboratorio, per dare un segnale al territorio che non facciamo le cose soltanto in Parlamento, ma le facciamo e vogliamo raccontarle sui territori. Io credo che la gente si debba sentire anche tutelata da questo punto di vista.